e da stamani mattina alle 7 e 40, questo campo che avevamo allestito, che non è un campo, era la mensa, perché la popolazione veniva ospitata nella palestra qui a fianco, è stato invaso da 500 o 1000 persone che hanno trovato qui comunque un primo ristoro a mezzogiorno e tutta la mattinata. Oggi pomeriggio le istituzioni si sono attivate e hanno cominciato a spostare un po' di persone invitandole a abbandonare la zona. In questo momento i nostri volontari hanno messo in sicurezza anche qualcuna alla nostra tenda della segreteria che era sotto vicina alla palestra e attualmente stanno continuando a fare assistenza alla popolazione in attesa di capire quali sono le azioni e le mosse che dobbiamo fare. Dobbiamo avere un po' di pazienza per capire appena li sono in funzione quali sono le disposizioni quantomeno sindaci e dipartimento. Attualmente pare che l'idea predominante sia quella di far abbandonare alle persone il posto, trasferirle in alberghi anche se per 3-4 giorni per poi capire come poterle rigestire in loco.